L'economia è solo una condizione di rapporti. La nostra vita è uno scambio costante e lo scambio è tale solo se produce ricchezza per entrambi, se no non è economico. Se si va sul vocabolario è molto interessante perché si trova il significato che è arte di reggere e amministrare bene le cose della famiglia e dello Stato. Quindi innanzitutto è un'arte, casomai qualcuno pensa con la banca centrale. Essere buoni economisti vuol dire sapersi prendere cura di una dimensione privata, le cose della famiglia e di una dimensione pubblica che per qualcuno può essere il proprio lavoro, un impegno civile, quindi tutto è economico.